Direttore, parte la stagione dei saldi, forse quest'anno almeno dal punto di vista di chi deve comprare mai attesa come quest'anno perché poter risparmiare e comprare degli oggetti di ottima qualità è importante in questo momento? Sì, è un anno un po' particolare perché chiaramente è una stagione con i saldi posticipati circa di 30 giorni rispetto al consueto una decisione che la regione toscana ha adottato e comunque rimangono sempre, una data importante rimane sempre un evento in più chiaramente c'è la garanzia di avere un attacco saldi diciamo così molto aggressivo da parte di la maggior parte delle aziende con percentuali di sconto importanti il che le rendono appunto ancora più accattivanti, ancora più convenienti da parte dei nostri clienti noi infatti li abbiamo definiti quest'anno un po' dei saldi intelligenti proprio perché comunque diventano acquisti mirati, molto convenienti e con percentuali ripeto molto molto aggressive anche rispetto a quanto eravamo abituati in passato Questa struttura quante persone occupa? Noi diamo lavoro a 700 persone che chiaramente lavorano nei 140 negozi più chiaramente un indotto per gestire l'intera struttura quindi siamo una delle realtà più importanti di tutta la zona sicuramente Valdichiana Outlet rimane uno dei punti focali di tutto il centro Italia Quanto incide per voi non poter avere ad esempio clienti dalle altre regioni e soprattutto questa chiusura del fine settimana? Purtroppo è un impatto molto pesante perché nel fine settimana, quindi nelle giornate di sabato e domenica noi generiamo il 60% del fatturato dell'intera settimana anche perché chiaramente sono le giornate in cui c'è molta disponibilità nel passare il proprio tempo anche per le attività di shopping ma soprattutto abbiamo clientela da tutto il centro Italia appunto quindi è una meta che si trasforma spesso in una gita di un giorno con provenienze dal Lazio, dall'Umbria, dalle Marche, ovviamente da tutto il resto della Toscana quindi è chiaro che avere le regioni chiuse, tra cui una veramente a ridosso di Valdichiana Outlet che è l'Umbria, per noi è sicuramente una fortissima limitazione che ci auguriamo presto possa essere eliminata e possa ritornare appunto alla normalità Noi siamo una struttura che per le sue caratteristiche è considerata un centro commerciale catalogata come centro commerciale ma in realtà siamo una struttura completamente all'aperto in tutto e per tutto simile ad un agglomerato di negozi di un centro cittadino la normativa ad oggi consente ai negozi di centri storici di rimanere aperti purtroppo alla nostra struttura, nonostante appunto abbia delle caratteristiche molto simili invece lo impedisce proprio nelle giornate prefestive e festive ci tengo anche a dire che comunque noi abbiamo investito nella sicurezza abbiamo seguito tutti i protocolli effettuiamo la misurazione della temperatura agli ingressi di tutti i nostri clienti distanziamento delle code al di fuori dai negozi con dei bolli sanificazione delle mani addirittura abbiamo messo dei semafori per evitare gli affollamenti nei bagni sono tutti investimenti che abbiamo fatto ripeto sia per seguire le normative ma proprio per far percepire un senso di sicurezza della nostra struttura forse anche maggiore rispetto a quella dei negozi in centro città Quindi ecco in questo periodo dei saldi andrà avanti fino al? I saldi andranno avanti per tutto il mese di febbraio chiaramente noi siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 quindi ci sono 5 giorni a settimana per poter soddisfare le esigenze e le richieste dei nostri clienti con un orario comunque abbastanza esteso fortunatamente è una settimana in cui la regione toscana è ancora una zona gialla quindi c'è libertà di movimento in ambito regionale questo va detto e questo chiaramente ci dà una mano grazie a tutti